...d'inizio, si parte con l'Inter che attacca da sinistra verso destra, tanti auguri, Olivier, palla giocata da D'Akur, è completo anche di Palombo oggi. Luis se ne va, attenzione, palla dentro, buona, D'Akur può dare sul fondo, il cross, ahhh, cornerone! Palla fuori, attenzione, Palombo, circolazione buona del pallone per San Marco, il cui destro è a lato ed è il primo tentativo verso una delle due porte. Ancora Cesar, si va a vedere, buona la manovra, guadagna al fondo, il cross arretrato, cambiazzo, arriva Cesar, anticipato, Figo, vede la porta, piazza il tiro, lo murano, D'Akur cerca di andare al tiro e la palla è smorzata dall'intervento di Lucchini. Poi Figo sempre zigla alle sue spalle, se lo beve con facilità il velo, bellissimo, Crespo, Ibra può dare solo, Ibra il tiro, è gol, 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 ingegno, ingegno, bella azione, bella azione, al 23, quinto gol. Quando le due punte giocano e fanno bene la linea, se c'è la finta, dietro c'è l'altro, si può andare in porta e così è stato, 24 minuti di gioco, guardate, Figo, eccolo qua, vedete che c'è la perfetta linea fra i due e a questo punto Ibra aveva due opzioni, metterla nello spazio per Crespo, andare da solo, va da solo e la mette dentro, è il gol dell'1-0, azione capolavoro dei ragazzi. E allora ancora Cuccio, può andare al cross, scambia con Cesar, azione personale, numero di Cesar, guadagna il fondo, palla dentro per Cambiasso, entra in aria, cross, colpo di tacco di Crespo, ahhh, che bella azione. Palla limite, Dacour, palla dentro, attenzione, Cesar solo, il tiro, ahhh, sfiora, sfiora il palo solo contro Mirante, era la palla del 2-0. Peccato, mani nei capelli, pochi, ma mani nei capelli, è un modo di dire, di Cesar, che sciupa, bellissima questa azione, la palla di Dacour, vedete che fuorigioco non ci può essere perché Lucchini non sale e lui spreca la palla del 2-0, peccato. Maxwell tutto in rapidità, se ne va il conte, azione personale, va in slalom, palla buona, Ibra, entra in aria, Crespo solo, ahhh, Mirante, bravo Mirante. Il Cuccio e l'ultima azione, mancano 5 secondi, non c'è tempo. Io dicevo, tira, tira, vai da solo, perché guardavo il cronometro, cosa che non potevano fare dal campo. Allora, 1-0 per il gol di Ibrahimovic al minuto 23, allora inizia in questo momento il secondo tempo, attenzione 3 contro 2, pericolo, San Marco, arriva al limite, palla per Caracciolo, possono andare al tiro, il cross, ancora il pallone che è protetto da Samuel per l'uscita di Giulio Cesar. Il capitano ancora Tiger, Tiger che avanza, palla al piede, mette movimento figo, buono, l'1-2 con Ibra, attenzione Ibra, si allarga, gli toccano via il pallone. Numero Ibra, solo, tiro, gol, gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, mamma mia che gol, mamma mia che gol il genio, mamma mia che gol il genio. Che capolavoro, che capolavoro, me lo voglio rivedere, guardate, prende palla, lo contrastano, vince in mezzo a due, dribbling, tiro e gol, potenza, eleganza, forza, tecnica, c'è tutto. In questa azione dove resiste anche alle trattenute, si difende sbracciando a sua volta, ma qua fa un numero, un cambio di direzione che pochi potevano immaginare. Luis Figo, forza ragazzi, la percussione ancora per Ibra, Ibra che cerca di andarsene in mezzo a due, chiuso, palla dentro per Cesar, fuori, Figo, attenzione, contro Cross, che bella l'idea di mettere un pallone in lob. Con Dacurra che va in diagonale a chiudere, bravissimo, Maxwell e Cesar, palla dentro per Crespo, c'è Figo, dagliela, eccolo qua, Figo, vede la porta, Luis, è gol, 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 è il passo nobile. Olè, 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 è così che fa Luis, contentissimo per questa bellissima azione e questo bellissimo gol, Inter è contenta per questo grande gol di Luis Figo che si trova a battere un calcio di rigore. E allora si ripartirà con, bellissima, vedete, un pallone che gli serve Crespo, fa l'errore il difensore di rinculare anziché andare a contrastare. Parte la rincorsa di Ziegler, palla dentro, colpo di testa, salvataggio sulla linea di Luis Figo, palla ancora viva, Ziegler contro Cross, dentro l'area, sale Campagnaro, palla alta. Cesar, palla per Suazzo, attenzione Suazzo, cerca di andare, salta l'uomo, arriva al limite, attenzione il suo tiro, c'era Cesar tutto solo, non l'ha visto. Suazzo, attenzione, qua si accende una bolgia incredibile, palla al limite, Adri, attenzione Adri, può saltare l'uomo un secondo però esce dall'area, palla fuori, cambiasso, c'è il suo tiro e la palla sfiora il palo. Palla, portata avanti, Maxwell siamo al limite, 1-2, attenzione Maxwell, può andare al tiro, vede la porta, attenzione, è chiuso, salta l'uomo ancora in dribbling, il tiro, a porta vuota il tentativo, in scivolata da Adriano che manca l'impatto, in rete ci va lui, ma non il pallone, che peccato, bravo Maxwell. Allora Dacour, Pelé, avanza, arriva al limite, carica al destro, ha cercato un tiro in azione personale, il giovanotto come si dice, e allora 3-0, la doppietta di Unibranimovic, eccezionale, il gran bel gol di Luis Figo, ma tutti bravi ragazzi, quest'oggi è difficile trovare un migliore, un peggiore, qualcuno ha fatto come sempre qualcosa in più, ma ottima e altamente sufficiente la prova di tutta la squadra.